Salve a tutti e qua siamo i fantomani 2 ah già stessi io e primamente vabbè lo porteremo vabbè il gioco più difficile del mondo che mi sa che nessuno finora l'ha portato credo vabbè l'inglese vai allora un plugin ora vediamo la provata di questo eeeh no il culo non ci si può dire con questo comando ma tu magari ci sei chiusa sto gioco no no allora e il primo livello è fatto cerchiamo di fare tutti i 30 livelli anche se io mi ero bloccato al 26 non sono riuscito a farlo molto difficile io l'ho fatto però non annetto farlo pure io da quando avevo un computer che funzionava ma dov'era? ah ecco lo provavo tanto questo video non ci verrà mai la prima botta dopo scopriremo che oh che violenza è quella ma no ma no salto masi no fai schifo salita lo fa culo le faccio vedere la mia provata tanto mo perdi ahahah tanto mo perdi adesso eeeh oh 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 c'è la capola vai schifo ve lo ha fatto così che facile eh facile il fanculo ma guarda palle eoliche inizia la fase del nervosismo per loretto presto arriveranno anche video su battefield gosse e altri cazzi vari se ciò iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale e mettetevi in giallo sempre le solite strozzare direttamente in ogni video tutti i dubbi noi diciamo in famiglia 20 morti adesso comparirà un bel metodo invece no perchè non abbiamo voglia di metterlo lo posso metterlo la parte apatrice poi da poi e' apparso se non è apparso pietra con lui ahhh ahhh tutto colpa del giro non sta regista a terra ma non sta la fa morire che culo mamma mia che culo che culo no no che prudizia no no che prudizia vai qui avanti vai 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 dico il tuo cognome va 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 culo senti quello era fatto era mob ora gioco io perché sopra non si usa cellulare non si usa cellulare siamo a casa siamo a casa c'è qualche trick se lo volete vedere non sono il master trick shoot però la cavo si si chiama così si si chiama così si si chiama così se mi vede ciao chakra ciao chakra che cazzo è chakra ah tu non conosci il mondo di youtube e staglio un sdv saluto sharp e vabbè questi sono tutti i livelli paci dai sei una pipa vai adesso faccio l'ultimo e poi apro la vita intanto io ho vinto mob si su questo nuclear preso guarda allora se entrano i tuoi famigliari dai i tuoi famigliari che culo tanto è facile vabbè 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 che culo super allongatoie vabbè vabbè che culo cioè che culo vabbè 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 donc poi ditemi se vi è piaciuta tanto che c'è il culo e prudenza mi canso che prudenza sei a cui io ne si muore adesso faccio quelli oh mi muore adesso oh sono qui in dos si questa è prudenza no era bagato tu rotti in pubblico no sto ruttando a casa tu è uguale fa culo che ne so come si doveva fare con i due aspetta oh è davvero loro non sanno che ma tu te baggano non vale tu vuoi si bagga guarda come si fa aspetta lì e poi te non entra stasera direzione teatro no ma è ma no stasera direzione teatro ma è davvero l'intruzione sicuro faccio vedere amore del corso più bello del mondo l'ombo più bello del mondo c'è sta cazzucina che pompa mariema ecco tanto tu non ce la fai perché eravamo a 10 livelli sì avevo capito che era un po' di strategia sì che grande non le avevo detto che era di strategia ma adesso andò in colpio ho capito tanto come si fa tanto ho capito mi ricorda? ecco faremo 10 livelli nooo faremo 10 livelli appuntata però ci saranno livelli che non ce la faremo a farli sicuramente io posso aiutare ma che cazzo fai allora allora sto gioco tu l'hai imparata a memoria lo devo fai io perchè sennò qui l'hai imparata a memoria ecco la cosa è la merda ma che pit mozzano no no stavano chiuso soldi da partner si vogliamo i money che ha due money grabber che cazzo di per terra money grabber youtube uguali soldi per i money grabber per i money grabber il nostro è puro divertimento guarda come utilizza i trucchi ma quali i trucchi pesa guarda ma perchè fai il giro meglio far giro che morire no? ma guarda oh oddio quella è prudenza quella è cazzata no c'ho sbagli invece no invece no grande oh my god oh my allora qui solo dei consigli che vi do tanto non ci giocherà nessuno dovete mettere addosso al muro premere la fericetta verso destra e poi quella verso giù solo così ma io che avevo fatto? poi fate qui sopra e andate verso il muro vi fate la stessa cosa premete la fericetta verso su e poi verso destra questo è spoiler eh quando ti giù verso il muro e quando questo qui si tanto non vedete eh il pallino sotto che si muove tocca va vicino a quello blu tipo uno due tre quattro cinque la faccuna poi si gioca tiffa guarda lui è monegrabber guarda youtube va giù un po' che si è passata fa ma aspettate che qui passa perchè ci sono morto cento volte e non capisco perchè fa ok è un po' difficile è cosa più difficile eh ha eh più difficile ha fatto una volta vabbè più difficile di livello eh oh my god ahhh troppo forti troppo forti troppo forti allora come salutammo? no vabbè fammolo questo siamo 10 vabbè fammolo tanto ha durato 10 minuti ah scusami così fammo 15 minuti vabbè è facile aspetta qui dovete essere truzzi per farlo perchè serve un tempo della mediana qua tanto c'è Gesù che scala il livello peggio quanto ci ho messo per farlo nooo eh era bug era preso io mi stavo a spostare eh a casa mia mi stavo a spostare allora ragazzi stavone scommesse in una botta gliela fa in una botta è bugato è bugato è bugato è bugato è neanche è nobel nobel è nobel è nobel è nobel pepe ma tu dici pippa in live dai scrivi in una botta solo che so io marimotro bugger gioco di un po' di culo si un po' che di culo vabbè finiamolo qua perchè era una rottura di palle vabbè qui lui ci vuole provare ecco lascia verde perchè questa è la rottura di palle basta a qui ci salutiamo qui è fantomati tanto questo video uscirà penso dopo quello di video introduzione trick shooter mettete mi piace iscrivetevi commentate allora commentate se volete i video pure dei truc dei troc dei trick shooter dei trick che sarebbe l'ultimo questo video poi se volete faremo pure un paragone tra s2 plus si lo faremo se volete o la si faremo ci vediamo la prossima puntata mi chiameremo il gioco più difficile mondo molto molto inventivo vabbè bella bella aspetta 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 aspetta